Con mezzo secolo sulle spalle, la sezione di Pesaro dell'Ari, l'associazione Radio Amatori Italiani, festeggia il cinquantenario della sua fondazione, ripercorrendo il passato che ne ha costituito la storia. L'associazione, che conta una sessantina di iscritti nel Pesarese, celebrerà il proprio compleanno l'8 di dicembre nella loro sede di Trebbio Antico, dove oltre ad un momento istituzionale con dei riconoscimenti per i soci e i loro incarichi ricoperti in questi anni, verrà inaugurato un museo della radio e degli strumenti di misura, che sarà visitabile ogni venerdì di ogni mese. I radiomatori sono degli sperimentatori, prima di tutto, che si dilettano alla sperimentazione di antenne, propagazione, contatti radio, ma sono anche presenti nella vita civile come protezione civile. Ricordiamo che in caso di calamità i radiomatori sono sempre stati fondamentali nei primi 24-48 ore. perché le comunicazioni tradizionali vengono a mancare e i radiomatori sono di nuova importanza fondamentale. Questo dobbiamo anche a un radiomatore che è stato Giuseppe Zamberletti, che è stato in pratica lui l'artefice, il fondatore della protezione civile in Italia. Lui era un radiomatore e ha voluto vivamente la presenza dei radiomatori nella protezione civile. Come sezione automaticamente insegniamo elettronica e radiotecnica per far prendere la patente a tutti chi ha intenzione di venire facciamo dei corsi. Purtroppo col Covid siamo andati in internet e abbiamo trasmesso. Da lì abbiamo avuto parecchi personaggi dell'Italia che si sono iscritti e hanno dato l'esame che sono stati promossi sia nelle Marche, Bassitalia, sarebbe tanto per dire Abruzzo, poi abbiamo avuto persone del Veneto, abbiamo avuto persone lombarde. Faremo un incontro con tutti i soci e anche abbiamo invitato le autorità. Perciò avrà il Presidente del Comitato regionale dei radiomatori, il responsabile della protezione civile regionale.